Tutto lo compriamo quando lo compi 18 anni. Mamma mia ho 16 anni, tutti i miei amici hanno un amore. Ma quali amici? Barbara non ha l'amore. Franca no e lì sa no. Ma possiamo comprarsi una nuova alberia? Domani andiamo all'Ikea. Però mamma... No. E poi, per il franzo, che cosa vi preparerò di bello? Io voglio una bella pizza con prosciutto e buco. Io voglio una bella pizza con prosciutto e buco. Io voglio una bella buccia che prepara la nonna. Pizza e amore. Per il Natale? No, no, no. Preparo tutto come si deve fare. Prima, un bella di pasta. Ehm, bruschette, prosciutto e frutti di mare. E poi per il primo, spaghetti al pomodoro. Dai mamma, spaghetti al pomodoro. Hai ragione Paolo. No, per il primo, le lasagne al ragù. Ti piace il ragù da buonienzo? Sì, certo. La lasagna al ragù fanno benissimo. Sì, e senti, per il secondo. Carne o pesce? La casa, mamma. Se per l'impasto già abbiamo i frutti di mare. Hai ragione, mia. Va bene. Preparo le zucchine e vitello a tosto. Va bene? E per fine? Un paletone. Ma perché non compri al supermercato in questi cerini? Comprare. Comprare il paletone. No. Il paletone si prepara in casa. E quest'anno lo prepariamo insieme. Io e te. Come la mamma e la figlia. Va bene mamma, d'accordo. Grazie. Grazie.